Per festeggiare il cinquantesimo anniversario della nascita del porticciolo di Le Cannella nel comune di Isola Caporizzuto, l'Associazione Cannellese Amatori Pesca Sportiva, in collaborazione con il Comitato Cittadino e l'Associazione Amare Le Cannella, con il patrocinio del municipio isolitano, ha organizzato la terza edizione della Sagra del Pescato, che si terrà il 9 di agosto a partire dalle 20. Mi ritengo pienamente soddisfatto, perché ho potuto constatare un esempio semplicissimo di collaborazione, di coesione, azzarderei, di cittadinanza attiva. Per la riuscita di questa serata hanno compartecipato tutti. Sarà la Sagra dei cittadini delle Cannella, ma non solo, di tutta la cittadinanza di Isola di Caporizzuto, perché i 10 euro non devono essere intesi come una scarsa qualità del prodotto, ma ci possiamo permettere questo lusso proprio perché abbiamo avuto tanti, tanti sponsor, quindi la collaborazione di tutti. Voglio semplicemente terminare dicendo che questa Sagra non sarà la Sagra dei cannellesi, non sarà la Sagra delle varie associazioni che hanno collaborato insieme, ma sarà la Sagra di tutta la cittadinanza di Caporizzuto, a cominciare dal comune di Isola Caporizzuto, che patrocina la serata, e a finire a tutte le altre associazioni che hanno collaborato con noi. Il menù di 10 euro prevede una grigliata, una frittura mista, bicchiere di vino, anguria e pane. I punti vendita per l'acquisto dei biglietti sono rintracciabili sulla pagina Facebook ACAPS, Associazione Cannellese Amatori Pesca Sportiva. La serata sarà alietata da diverse attrazioni, come spiega Vittoria Stillitano, che è coordinatrice dell'evento. La Sagra, che è patrocinata dal comune di Isola Caporizzuto, si terrà in Piazza Cannone dalle ore 20. Ci saranno dei cavalli con una briga che accompagneranno gratuitamente i presenti. Ci sarà anche il gruppo JAPIX, che è molto noto anche per la mototerapia. E dalle ore 22 ci allieterà il gruppo ASIOCHENA. Quindi non vi resta che venire il giorno 9 a Cannella dalle ore 20.